Ciao amici di Italia Top Games, qualche ora fa vi avevo dato appuntamento a giovedì 7 gennaio e invece dopo un paio d'ore rieccomi qui da voi. Perché? Perché grazie alla segnalazione di Rudy Salerno, il Pessologo Rudy Salerno, ci avevo visto questa mattina su Pess Masters e c'era una novità, non avevo visto nulla, non c'ero tornato. Ed invece, tac, eccolo qui. Allora, i giocatori in evidenza dovrebbero, sottolineo dovrebbero, perché ve lo ricordo, Pess Masters non è un sito ufficiale Konami, ma nel 99% dei casi ci prende. Quindi giovedì dovrebbero tornare gli agenti la settimana, qui mette anche gli agenti squadra di 4 squadre, ma io non credo che ci saranno giovedì, molto probabilmente arriveranno lunedì 11. Questa è la mia ipotesi, non sono sicuro, lo vedremo giovedì. Comunque, giovedì 7 dovrebbero esserci questi giocatori in evidenza della settimana. C'è un Kimi che ha 92 e, come si può vedere, arriva fino a 98 addirittura, al livello 27. La Cazette 91, un giocatore che però a me non piace molto, è troppo lento. Martinez 90, arriva a 96, al livello 31. Sirigo, il portiere del Torino. Alder Weireld, Romagnoli, che arriva a 95, niente male, ce l'ho avuto l'anno scorso Romagnoli, il mio difensore ottimo. Poi c'è Federico Chiesa, che arriva anche lui a 95, dopo 31 livelli di crescita. Io ci ho giocato contro Com, Chiesa è uno dei giocatori più forti che ho visto contro Com. Zielischi, autore di una doppietta, partirà da 88 e arriverà fino a 94. Niente male, dopo la doppietta di Cagliari doveva esserci. C'è poi Nacio, che parte da 87, Foden 86 e Sergio Oliveira, che arriva fino a 91. Diciamo che sono tanti i giocatori in evidenza, ma io questi tre onestamente li vorrei tanto pescare. Romagnoli, Chiesa e Zirischi. Questi tre mi piacerebbe davvero pescarli, visto giovedì arrivano 500 monete d'oro, ci butteremo tre giri. Anche Kimmich non mi dispiacerebbe, neanche Martinez, ma per le mie esigenze questi tre giocatori, Romagnoli, Chiesa e Zirischi, sarebbero le mie pescate preferite. Poi, poi, vediamo che ci dovrebbe essere l'Arsenal in evidenza. Però, ripeto, io penso l'11. Poi non si sa mai, a volte i data miner trovano i dati nella versione PC, che le software si inseriscono i dati, ma in realtà sono per varie settimane, credo l'11, però, ripeto, non ne sono sicuro. Comunque, Aubameyang 92, Leno 90, William 89, Xhaka 88 come parti, Gabriel Magallanes, mi ricordavo bene, sì, 87, Tierney, Chieta, non lo so se l'ho letto bene, ed El Nenni 83. El Nenni dovrebbe avere molti livelli di crescita, sì, 28, neanche tantissimi, arriva a 89. Vabbè, i giocatori dell'Arsenal non mi fanno impazzire, onestamente, di chi ci sono in evidenza. Barcellona, Messi, Terzkega in 93, mi piace, a quanto arriva Messi? Terzkega in 95, poco, cresce poco, solo i due punti. Poi Busquets, Griezmann, Piquet, Piquet, ottimo giocatore, Uh, De Jong, De Jong in evidenza, ragazzi, De Jong in evidenza, l'anno scorso mi ha fatto svoltare. Barcellona arriva a 97 con 31 livelli di crescita, toccherà girare pure il Barcellona solo per lui, sostanzialmente. Beh, anche Jordi Alba, 88, interessante, arriva a 94 dopo 23 livelli di crescita. Ed interessante anche Anzufati, che l'anno scorso avevo, porca vacca, a 58 livelli di crescita, approssimati, arriva a 100, 100. E, ragazzi, c'è anche il Barcellona, assolutamente. Poi c'è Pedri 81, decisamente meno interessante, ma fino a un certo punto, perché a 60 livelli di crescita arriva a 95. Barcellona c'è da girarlo, secondo me, a voglia. E poi ci sono le rumane. La Lazio, immobile, parte da 90, vediamo, arriva a 95, mica male. Acervi 89 e arriva a 94, top. Luiz Alberto 89, Milinkovic Savic 89, Luiz Felipe 88, Pepe Reina 85, Caicedo 85, Fares 84. La Roma, la Roma, Pellegrini 89, Smalling 88, Geco 88, un po' poco 88, soprattutto in questo periodo, comunque arriva a 93. Mkhitaryan ugualmente 88, 87 Veretù, scusate, Mirante e Veretù 87, Pedro 85, l'hanno regalato qualche settimana fa, vabbè. I Bagnez 83. E poi c'è anche il giocatore in regalo, perché fino al 7 gennaio ci sono giocatori in regalo. Ve l'avevo detto, l'ultimo sarà Falcao, del Galatasaray, ed eccolo qui. A 87, è una punta mica male, diciamo, non velocissima, però arriva fino a 93 e poi, come si suol dire, a cavaldonato non si guarda in bocca. Io direi che ci sono giocatori molto interessanti, che io girerò i giocatori la settimana per questi tre vicini, Zienischi, Chiesa e Romagnoli, e poi vediamo chi pescherò, e poi per il Barcellona, sia per Ter Stega in 93, niente male, sia per Piquet, sia per De Jong, sia per Jordi Alba, Ansufati e Pedri. Diciamo che basta che non pesco Messi, lo so, ma già ce l'ho, basta che non pesco Griezmann, che ce ne ho già tre, uno in evidenza, due normali, e anche Busquets sì, non è male, assolutamente non è male, arriva a 95, però mi interesserebbe più pescare De Jong, Jordi Alba, Ansufati e pure Pedri. Però diciamo, anche tra questi quattro vorrei trovare i giocatori. Poi, i tifosi della Lazio e i tifosi della Roma, ovviamente, avranno un occhio di riguardo per gli agenti squadra delle loro compagini, e che poi non mancano i giocatori interessanti come Immobile, Dzeko, Smalling, Pellegrini. E poi c'è Falcao in regalo, che non ci dispiace affatto. Bene, vi ringrazio per l'attenzione, per questo filmato a sorpresa, sostanzialmente. Spero che siate contenti delle novità che vi ho mostrato in anteprima, che vi ribadisco non sono ufficiali, ma molto, molto, molto probabili. La percentuale, sostanzialmente, di correttezza delle previsioni di Pesemaster è intorno al 99%, e ve lo assicuro, c'è stato solo un paio di volte in questi anni in cui non si sono avverate le previsioni, perché appunto Konami può fare cambi all'ultimo rispetto ai dati che ha inserito nel gioco quando parte l'aggiornamento, è quello l'elemento ufficiale. Loro inseriscono alcuni dati in precedenza per semplicità, per non rendere troppo pesante l'aggiornamento, ma poi quello ufficiale di aggiornamento è quello del giovedì o del lunedì. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione ancora, vediamo se è davvero l'ultimo filmato prima di giovedì mattina. Buona epefania di nuovo. Ciao!